Salve a tutti, grazie a metter sotto C'è uno in fondo in fondo Sono qui per farvi oggi la giocata Per augurarvi il buon Natale Una giocata molto particolare Una squadra in difesa Di una bandiera Circa dieci persone Si va in attacco Una giocata senza tagli Ripeto, senza tagli Pochissimo montaggio Spero che vi godiate questo Piccolo format Che vi porterò Ho deciso di portarvi Quando possibile Ovviamente la giocata deve valere nella pena Senza tagli, senza montaggio Se vi piace Fatemelo sapere Scrivetelo nei commenti A me è piaciuta Quindi se a me piace io ve la porto Se dopo a voi piace Io sono solo più felice Ora HK416 Della Umarex VFC Lì abbiamo il nostro caro M Con il cecchino Con tanto di Camscope E vi arriverà il video della Camscope Prima o poi Prima o poi Guardatevi il video Fino alla fine Io ve lo consiglio Caldamente E fatemi sapere cosa ne pensate di questo piccolo format Davvero Buon Natale Guardatevi il video E fidatevi Guardatelo fino in fondo Ah si Ricordatevi che sono in dieci nemici Ciao ragazzi Iscrivetevi al canale Mi raccomando Ciao 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 Buon Natale No se si è buttato indietro Si è postato Un momento lo zoom Siamo Dai avventaglio Apri 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 Infila dai infila raga Infila andiamo avanti Dai Preso morto Girato sotto Preso un altro Se non avanti Provedito a tuo ore 12 Avanzate Avanzate Ok bravo Sulla tua sinistra Attenzione Sei nascosto Ci siamo Mi sta sparando qualcuno Non ve lo vedo Mi sta sparando qualcuno Non lo vedo No Non lo vedo Avanzo Avanzo Non lo vedo Non lo vedo Non lo vedo libero 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 bandiera fine bravi ragazzi otta bene bene Ciao